E' uscito dal carcere Oscar Pistorius. Gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, come consentito dalla legge sudafricana, dopo un anno dei cinque cui era stato condannato per omicidio colposo. Il 14 febbraio 2013 il campione paralimpico aveva ucciso la fidanzata Riva Steenkamp per errore, scambiandola per un ladro, secondo la tesi della difesa. La vicenda giudiziaria però non è conclusa. Dal 3 novembre si aprirà il processo d'appello voluto dall'accusa che propende per la tesi dell'omicidio volontario e intende chiedere una pena ben più pesante. Nell'attesa Pistorius starà a casa dello zio a Pretoria.